In questo sondaggio abbiamo commissionato proprio per aiutarci a definire alcune strade di prospettiva sulla rappresentanza per il futuro. E' come il risultato da alcuni punti di forza che per la Cisli Bergamo è un forte riconoscimento territoriale, è un forte collegamento con i propri quadri, delegati, attivisti che è molto importante e da ulteriormente valorizzare in prospettiva. I punti di debolezza però sono la nostra difficoltà a interpretare e a rappresentare soprattutto i nuovi lavori e larga fascia dei giovani lavoratori. Il tema vero secondo noi, e sarà oggetto anche di approfondimento, sarà come legare istante sempre più soggettive da parte della realtà del lavoro con la rappresentanza collettiva. Per fare questo è opportuno fare investimenti in nuovi servizi, nuovi presidi, soprattutto sui temi del mercato del lavoro. Miteniamo che sia compito del sindacato quello di gestire l'incontro da mando offerto, l'altra manza scuola lavoro, tutto quello che rappresenta anche per tanti lavoratori più o meno giovani uno dei punti più critici e soprattutto poi di essere maggiormente vicini a tutta l'area della precarietà. Ecco, è una discussione che è in atto da tempo. Il sindacato italiano ha la forza di cambiare, di venire incontro a una richiesta di qualcosa di nuovo che arriva proprio dai lavoratori? Il sindacato italiano non può solo lamentarsi del governo che non lo provoca, ma deve rivedere il proprio assetto organizzativo in funzione di avere molto più forza dal basso, garantendo maggiore partecipazione dei lavoratori e da questo far crescere anche un livello poi di riconoscimento sociale che deve essere molto più alto di quello attuale. Sicuramente che in un clima non favorevole in questo momento al sindacato e alle organizzazioni di rappresentanza, la CISL, in particolare la CISL a Bergamo, ha un ruolo molto importante. Da un lato ovviamente sta cambiando il tipo di relazione che esiste tra cittadini, lavoratori e organizzazioni sindacali, dall'altro però la capacità di essere sindacato che abbiamo definito a bassa intensità ideologica e ad alta intensità operativa favorisce l'avvicinamento e l'apprezzamento da parte dei lavoratori. Cosa rende più critici i lavoratori rispetto al sindacato sul ruolo del sindacato e cosa invece apprezzano di più? In realtà va un po' di pari passo questo cambiamento col cambiamento che il paese ha vissuto, cioè ci sono istanze più individuali che sociali e quindi da un lato si apprezza il fatto che venga meno ruolo pervasivo, viene definito così da parte del sindacato, nelle diverse questioni che toccano il nostro paese, dall'altro però si apprezza molto la vicinanza, la singola esigenza, il singolo bisogno del lavoratore. Da questo punto di vista le erogazioni dei servizi che alcuni considerano come una sorta di deriva del sindacato rappresenta invece il punto da cui ripartire. C'è comunque tuttosommato fiducia ancora nel ruolo del sindacato? Sicuramente sì, anche se si è molto ridotta rispetto agli anni passati, da parte però un sindacato con connotazioni più ideologiche poteva portare su un livello di consenso più elevato, oggi sia per la disintermediazione sia per le istanze di cui parlavo prima si è un po' ridotta questa fiducia e questa aspettativa nei confronti dell'organizzazione sindacale in generale. Sì, anche questa ricerca conferma le cose che noi abbiamo analizzato bene nelle nostre assemblee organizzative. Per tre mesi abbiamo coinvolto nel nostro dibattito migliaia e migliaia di delegati, di delegati, di giovani e di anziani dentro l'organizzazione, proprio perché c'è bisogno di cambiamento anche tra le parti sociali e nel sindacato. La CISL ha individuato alcuni filoni di azione che metteremo ovviamente in pratica, che è la centralità del territorio e del luogo di lavoro come soggettualità sindacale. Lì dove c'è la contrattazione e lì dove si incontrano gli iscritti e le iscritte, noi dobbiamo rafforzare il nostro sindacato, dobbiamo rafforzare la CIS. E poi c'è il tema di come guardiamo al futuro, quindi di come ringiovaniamo il gruppo dirigente, ma anche i delegati e le delegate dentro la nostra organizzazione con impegni assolutamente precisi che abbiamo assunto nell'Assemblea organizzativa nazionale.